Ciao a tutti ragazzi Non avete idea, fa un caldo boi Che forse andava Quanto mi mancava ragazzi Non ci gioco da tipo 5 giorni a Fone Perché ci gioco meno Perché mi piace Le laggate no, per favore Le laggate iniziamo così Allora Ma io sono un coglione Perché ho fatto creativa Cremic che gioca Madonna ragazzi Allora, sono rimasto sempre un nabo Perché sono un nabo, già in questa cosa ho fatto la nabbata del secolo Quindi Torniamo alla lobby fra 3 2 1 Non va alla lobby da solo Devo mettere il video in pausa ragazzi Eh se no Ah no Va da solo Va bene Va bene Adesso Gioca Che bella Abbiamo perso 2 minuti del video ragazzi A stare nella nostra lobby di Fortnite No Connessione regolare no Non me ne frega Ho la renegade Quindi è geloso Fra cosa vuoi Guarda Guardalo Mi segue da poi Ah ok Non mi segue più Va bene V1 V1 No G1 V1 faccio cagare Allora Gun game Oh sì però Una persona E Zero persone Le creative sono sempre più Più pubbliche Ci sono molte persone Già Eh raga A questo punto entriamo qua E chi se ne frega Tanto ormai Tanto che ci siamo Ci sono 2 persone Quindi Andiamo dentro Ah Raga da un po' che non gioca fuori Quindi non criticate se non so giocare Però il volume Grazie Allora In traietta No la so usare Ma io le armi le prendo comunque Anche se non le so usare Mi prendo il rampino Perché è bellissimo E mi prendo la cura Chi è il monaco Che sta lì in alto Per favore Mi scusi eh Mi scusi C'è spazio per me là sopra O non c'è spazio Mi intrappolo da solo Si inizia benissimo ragazzi Mi scusi Mi scusi Non mi lagare così Gioco Ah aspetta Perché C'è Una fila di cose Me le posso Ora Mi fate fare un gameplay sano Senza lag La risposta Perché andare a porti fortnite Avete la risposta davanti voi Senza che io la dica E' questa la risposta Lagga come un porco Perché mi deve lagare così Però quando non ci sono lag Eh Regà Perché Quello lì che sta Mi scusi Mi scusi Buongiorno Buongiorno Lei è molto Grazie Ciao Forse ho capito perché mi seguiva Sapete perché Sicuramente ragazzi mi stavo seguendo Perché io avevo il microfono aperto Questo qua Pensava che ero uno youtuber Quindi mi seguo perché voleva apparire nel mio video E dopo andare a cercare Lord Mortius su youtube Io mi chiamo Andrea Slayer Avete capito come ragionano le persone Ciao amico Molto piacere Però non potrei apparire nel video Sai perché? Perché non sai come mi chiami Non sai come mi chiamo su youtube Forse questo non è neanche italiano Può darsi Fra fammi andare su Oh bastardo questo Ok Perfetto Non fate domande Non fate domande ragazzi Va bene così Mi scusi C'è posto anche per me qua sotto Lo so Sono troppo invadente oppure no? Non sono troppo invadente? Sono troppo invadente Però ragazzi avete visto il lag che fa? Io posso dire Andrea se ti lagga su GeForce Now Perché non registri su Epic Games? Su Epic Games è ancora peggio Perché Perché non è che mi lagga la grafica La grafica vedete che è un po' pixelata Lì non mi lagga la grafica Ma mi lagga Cioè mi va scato Io ragazzi Finisco il video qui Perché credo che sia passato un po' di tempo Non lo so Se volete altri video di Fortnite Scrivetelo in the comment Oppure ditemi anche se volete Qualche videetto Di Minecraft o di Blue Stars Decidete anche un gioco Oltre a questi Quello che volete voi Basta che non sia a pagamento Perché io sono poco Comunque ragazzi Se questo vi è piaciuto Lasciate like Condividete il video con i vostri amici Iscrivetevi ragazzi Perché Quello che mi sta guardando Ragazzi Adesso Intanto saluto Jump che mi ha invitato Ciao Jump A partire nel video Cici per te Ragazzi Io so che questo tizio qua Che mi sta guardando Cioè tu Tu che mi stai guardando Mi stai guardando il video Mentre non sei iscritto Non va bene fra Non va bene Se ti piacciono i miei video Iscriviti Se non ti piacciono Ne li guardi Perché ti va Non iscriverti Chi se ne frega Comunque Se ti è piaciuto il video L'ho già detto prima Perché lo sto ridicendo E noi ce ne vediamo Come sempre Ad un prossimo video Prima devo uccidere Perché sta sulle palle Ho concluso il video Molto sexy Quindi ragazzi Noi siamo più chiacchi Come sempre Ad un prossimo video Bello Oh damn Noi siamo più chiacchi Come sempre ragazzi per il video di oggi è strano questo video alla fine sarà due minuti non so quanto dura sto video comunque questo piccolo video che vi sto facendo adesso è strano il video che è successo di oggi perché io sono sicuro che non l'ho messo in pausa forse non lo so cos'è successo però in mezzo al video verso in mezzo al video di Fortnite c'è stata una parte tra l'altro divertente che non è venuta non so cos'è successo credo che si sia fermato il video oppure OBS è andato in casino in qualche modo comunque ragazzi non lo so mi dispensi per quello che è successo ragazzi ho messo un gameplay di Geometry Dash così per fargli perdonare giusto qualcosa così ragazzi perché non volevo finire un video di 6 minuti quindi ho detto dai poverini i miei iscritti non posso fare un video così triste mettiamo un gameplay di Geometry Dash per rendere la cosa un po' più felice a chi piace Geometry Dash ovviamente perché c'è a chi non piace comunque ragazzi intanto ditemi nei commenti se vi è piaciuto il video di Fortnite perché ho visto nei commenti che tante volte mi dicevate porta Fortnite porta Fortnite porca vacca porta Fortnite ho detto port... si però stai calmo ho detto però portiamo Fortnite ragazzi se lo vogliono così tanto vorrà dire che vogliono Fortnite quindi ragazzi l'ho portato spero che il video vi è piaciuto se così fosse mettete like scusate questo piccolo video alla fine di un minuto e qualcosa e niente ragazzi se vi è piaciuto l'ho già detto beh lo ridico mettete like iscrivetevi al canale condividete il video con i vostri amici se ancora non l'avete fatto e iscrivetevi al canale che è gratis basta schiacciare lì fare fare così ed è fatto e niente noi ci ricordo come sempre ad un prossimo video di Fortnite o qualcosa che volete ditemelo nei commenti bella grazie